Ascolta terra, orlo del vasto mare, ascolta, ascolta uomo, ascoltate voi tutti che campate sotto il sole. Il giorno della suprema collera è vicino, l'odiato giorno, il giorno amaro in cui il terreno crollerà, si scioglierà il sole, la luna muterà il suo corso, si oscurerà il giorno e le stelle cadranno sulla terra. Oh sventurato, oh misero, perché cerchi ancora l'appagamento sconsiderato, per un uomo. Nel 2010 l'UNESCO ha dichiarato il canto della Sibilla patrimonio di un'unità. materiale dell'umanità è uno dei più affascinanti documenti della cultura europea medievale giunto ai giorni nostri. Profetessa di Apollo, presaga di sciagure e calamità, la Sibilla entrò nel mondo cristiano come prima annunciatrice della venuta di Cristo e del suo ritorno nel giorno del giudizio. Il testo, riferito da Sant'Agostino nel De Civitate Dei, era cantato su una suggestiva melodia trasmessa in diversi manoscritti medievali. Il concilio di Trento abolì il canto della Sibilla, ma grazie al tenace attaccamento popolare ancora oggi si canta nella versione catalana alle Baleari e in Sardegna ad Alghero. La notte di Natale un fanciullo intona un canto che descrive l'Apocalisse e il giudizio universale. È il Die Sire, il giorno in cui Cristo ritornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Mia mamma è catalana di Barcellona e questo mi ha permesso di assistere diverse volte al rito del canto della Sibilla che viene proposto ogni anno durante la notte di Natale e di assaporare già come spettattrice la grande potenza che questa figura trasmette grazie naturalmente alla presenza del coro che la sostiene, la circonda e del pubblico. In risposta all'intensità e al magnetismo della Sibilla ho voluto una massa corale molto numerosa, talvolta anche aspra ma reale, che riportasse all'origine popolare di questo rito, perché è il popolo, che è voce dell'umanità, che chiede e che si chiede quale sarà il proprio destino alla fine dei tempi. La registrazione si è svolta in una piccola chiesa sulle alture di Genova, poco lontano dal cantiere di ricostruzione del ponte, noto tristemente per il suo crollo, e nel pieno di una di quelle allerte meteo che oramai spesso colpiscono la nostra regione. Il montaggio è avvenuto mentre l'intera umanità si misurava con la pandemia del Covid-19. È stata una combinazione di eventi che ha confermato l'attualità del messaggio riportato in questi testi sul potere distruttivo che l'uomo esercita contro se stesso, e anche se con sgomento mi sono rassicurata sul fatto che si può essere a contatto con la natura, con l'umanità, con la storia, col passato e con il futuro, rimanendo nel presente e occupandosi di musica medievale, in piena partecipazione e non evadendo dal mondo come talvolta può materiale di un sacco di potere distruttivo che l'uomo è proprio simbola e non vediamo le sueطzeком Grazie a tutti.